Per sincronizzare il calendario tra Webmail Aruba e un dispositivo iPad o iPhone, è possibile utilizzare il protocollo CalDAV senza l'ausilio di app di terze parti. Ok, vediamo insieme il procedimento per la configurazione. Accedi alla tua Webmail collegandoti all'indirizzo webmail.aruba.it. A questo punto devi scegliere i calendari da sincronizzare, quindi clicca in alto sul menu Calendario e poi a sinistra su Sincronizzazione per visualizzare i calendari disponibili. Visualizzerai i calendari creati da te e quelli di default. In alternativa al protocollo CalDAV, è possibile utilizzare iCal selezionando il tab indicato. I calendari sincronizzati con iCal sono in sola lettura. Non è possibile quindi aggiungere o modificare gli eventi, ma solo consultarli. In questo esempio utilizzerò il protocollo CalDAV. Individua il calendario che vuoi sincronizzare e porta il selettore sul verde. A questo punto bisogna configurare l'account e puoi scegliere tra la configurazione manuale e quella automatica. Per la sincronizzazione manuale ti suggerisco di consultare il tutorial dedicato, mentre per quella automatica clicca sull'icona relativa al calendario di iOS. Inquadra il QR code mostrato dal pannello con la fotocamera del tuo dispositivo mobile. Tocca il banner che compare e in questa schermata Continua. Seleziona Consenti per scaricare il profilo di configurazione. Il profilo è stato scaricato, adesso seleziona Chiudi. A questo punto bisogna installare il profilo. Vai nelle impostazioni del dispositivo. Seleziona il profilo scaricato e installalo dal pulsante in alto a destra. Convalida l'operazione attraverso il sistema di protezione del tuo dispositivo. Inserisci la password della casella e tocca Avanti. Ora seleziona Fine per chiudere la schermata. Perfetto! La sincronizzazione automatica è avvenuta correttamente.